le minga più il caso di accontentarsi degli spicci qua ci vuole in squadra ci vogliono i fuori classi quindi ho chiamato il sergio che ce l'ha nel sangue poi con il mitra fa quello che vuole poi c'è il faustino faustino siamo amici di infanzia abbiamo fatto insieme anche il riformatorio e poi c'è il beppe cazzo quello è capace di andare a 200 all'ora su due ruote va che se siamo bravi mettiamo su una batteria che non ce ne sono in italia allora socio lasciamo perdere si torna mica indietro sai alcuni indizi farebbero pensare alla banda vallanzasca io sono francisco laterio lui è nato la vallanzasca e deve stare al posto suo questi qua vanno eliminati in qualsiasi carcere si trovi ma vai a prestare i miei genitori per la roba di un po ti vedi con qualcuno se la polizia ci prende siamo morti se ci prendono i carabinieri quelli buttano via la chiave ma ti rendi conto dei disastri che stai combinando puoi fare la guerra al mondo c'è chi nasce a scarafaggio di scienziato chi santa maria teresa di calcutta io sono nato per fare il ladro io non sono cattivo ho soltanto il lato oscuro un po' pronunciato grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie Grazie.